Ciao ragazze, in questo video voglio proporvi tre ricette beauty facili e veloci da realizzare con il cacao La prima è uno scrub per il corpo, vi serviranno soltanto due cucchiai di zucchero di canna, due cucchiaini di cacao e un po' di olio di cocco Io in realtà ho aggiunto anche un po' di olio di mandorle Poi dovete semplicemente andare a mescolare il tutto e voilà, il vostro scrub al cacao è pronto A parte che il profumo è buonissimo, lo preparate in meno di due minuti E come potete notare con questa dose sono andata a riempire completamente il vasetto di Lush che avevo terminato Quindi mi durerà per parecchio tempo, faccio lo scrub circa 2-3 volte a settimana Potete utilizzarlo su tutto il corpo con la pelle volendo anche leggermente inumidita e va ad esfoliare la vostra pelle Poi vi lascia un profumo fantastico Come seconda ricetta vi propongo uno scrub per le labbra, più o meno gli ingredienti sono sempre gli stessi Un cucchiaio di zucchero di canna, un cucchiaino di cacao, un po' di miele e un po' di olio di cocco Poi bisogna semplicemente andare a mescolare tutti e tutti gli ingredienti e anche il vostro scrub per le labbra al cacao è pronto Anche questo lascia un profumo buonissimo Io ho utilizzato cacao amaro ma volendo potete utilizzare anche il cioccolato al latte se preferite O anche il cacao dolce E poi sono andata a travesare il mio scrub all'interno di questo piccolo contenitore Dovete conservarlo in frigorifero e dura all'incirca due settimane Comunque questo è il risultato, va ad esfoliare le mie labbra, le rese subito più morbide, più lisce e tolto le pellicine E l'ultima ricetta che vi propongo è sicuramente la mia preferita La maschera per il viso Vi servirà un cucchiaio di cacao, un cucchiaio di miele e un cucchiaio di yogurt Bisogna semplicemente mescolare tutti gli ingredienti e la vostra maschera al cacao super profumata e pronta Il cacao è ottimo perché va a fornire benefici anti-invecchiamento Il miele invece oltre che idratare va anche a combattere i batteri che causano l'acne e vari disturbi della pelle Mentre lo yogurt oltre a esfoliare delicatamente lascia anche la pelle super liscia L'ho tenuto in posa per circa 20-30 minuti e la mia pelle era morbidissima, liscissima Provatemi, fatemi sapere Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su ed iscrivetevi al canale E vi mando un grossissimo bacio Ciao!